Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Una signora di New York ha dato vita ad un nuovo business, quello della mamma, ma a pagamento. La signora, vista la sua esperienza trentennale come mamma nei servizi sociali, ha deciso di offrire il servizio a studenti fuori sede che possono avere bisogno di una pacca sulla spalla dopo una brutta giornata piuttosto che di una mano in cucina o con la lavatrice. Pensi che possa essere un servizio utile, sì o no? Non mi piace. Come mai? Non mi piace il fatto che una persona si debba fare pagare, prima di tutto una persona estranea, che quindi può condividere determinate situazioni con una persona che ha bisogno solo perché viene a conoscenza, così teoricamente, di un bisogno. Credo che ci debba essere qualcosa di più, ci debba essere un po' più di calore in una situazione di questo tipo. Per cui ancora io sono un'illusa, credo nell'amicizia, credo nella solidarietà, che sono valori che si devono condividere con dei sentimenti profondi, quindi con delle persone che si conoscono, anche se competenti. Cioè anche se non proprio competenti, diciamo, no? Infatti qualcuno ha detto che questo è un po' un insulto alla solidarietà, al volontariato, ai veri rapporti umani. Ai rapporti umani, soprattutto, certo. Lei è mamma? Io sono mamma. Se un ragazzo che è qua a studiare le chiedesse quindi di supportarlo in qualche modo, lei non lo farebbe mai a pagamento? No, assolutamente. Poi io faccio anche un lavoro, faccio un medico di famiglia, e quindi bene o male sei anche una mamma di queste persone, no? La gente ha bisogno di parlare, ha bisogno di essere ascoltata, e ci dovrebbe essere un po' più di tempo, anche per i giovani. Sì, io dico sì. Come mai? È così, per fare bene c'è una cosa, no? Importante. Per aiutare le persone, no? Anch'io sono una mamma, quando vedi una persona in difficoltà mi dispiace. Però lei non si fa pagare. Eh, no, no, no. Questa signora invece si fa pagare. Ah, no, no, non pagare. Non pagare per bene, solo per bene e basta. Infatti c'è chi dice, se facesse volontariato allora ok, però in questo caso farne un business è un po' squalido, soprattutto nei confronti delle vere mamme. No, per pagare no, per fare bene sì. Lei sarebbe mai disposta comunque ad aiutare qualcuno, un ragazzo che è qua a studiare per esempio, senza farsi pagare ovviamente? Sì, però adesso sono impegnata. Dipende, cioè dipende dalla persona che appunto si ritrova a fare questo lavoro. Quindi secondo me sì. Perché mi hai detto dipende? Perché è ovvio che non puoi fare questo lavoro a tutte le persone. Perché certe lo potrebbero prendere come tanto per, certe magari mettendoci di impegno. Quindi deve essere predisposta a fare quel tipo di lavoro? Ovviamente. Quindi penso che alla fine sarà dura che la gente si impegni, dato che è pagamento. E penso che le persone che si impegnerebbero sono quelle che lo farebbero anche gratis. Quindi tu dici che questo è proprio farne un business? Sì. Ne approfitteresti se tu fossi un ragazzo in questione che ha bisogno di una mamma, perché la tua è lontana, che ti dà una pacca sulla spalla? Ovviamente. La chiameresti? Certo. E saresti anche disposto a pagare? No, sinceramente. Perché una persona, cioè preferire, io sto, non so se è utile, però sto studiando scienze umane, ho fatto anche pratica, però poi voglio fare l'educatore per i ragazzi disabili mentalmente. Sicuramente io lo farei anche gratis, perché appunto penso che queste cose qua non le devi fare per soldi, ma appunto perché ci tieni ad aiutare. Vabbè, io sicuramente non lo farei, però se una persona fosse disponibile a fare questo lavoro per me, è ovvio che la manterrei io e tutto, però ad assumere qualcuno no. Quindi sì, se è fatto sotto ferma di volontariato no, se diventa un business. Certo. Grazie. 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 Grazie.